Dall'amicizia all'azione, dall'azione all'amicizia. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questa mostra su Giuseppe Tovini ed è un titolo che è preso da una bellissima introduzione che fece l'allora Monsignor Montini alla più completa biografia di Tovini fatta da padre Cistellini e proseguiva questa frase dicendo appunto dall'amicizia all'azione, dall'azione all'amicizia e diceva in questa circolazione di carità nacquero le opere ed ebbero, questo dice, questo ci insegna la vita di Tovini ed ebbero piccole o grandi che fossero, fortunate o fallite, valore apologetico cioè di difesa del cristianesimo e virtù rappresentativa cioè valore di testimonianza e dice dove questa venne meno di quelle opere si spense il fulgore e si attenuò le fucacia. Questo è il tema che abbiamo voluto porre a questa mostra che dice anche dello scopo di questa mostra, lo scopo di questa mostra, perché una mostra su Tovini e c'è un'occasione storica perché quest'anno ricorrono i dieci anni dalla beatificazione di questo grande protagonista del movimento cattolico dell'Ottocento ma che riproponiamo perché ha tanto da dire oggi e poi dirò il perché. Ma il motivo vero è proprio questo, cioè che è un Giuseppe Tovini ma lo sentiremo dalle parole dei nostri due relatori e come potrete vedere dalla mostra è esattamente quello che forse di più all'interno del movimento cattolico ha avuto sempre chiaro lo scopo dell'opera dove lo scopo dell'opera appunto è innanzitutto la testimonianza a Cristo questo è quello che colpisce di Tovini, cioè di un uomo talmente preso da Cristo che è libero di affrontare qualunque situazione, di vivere una vita unita avvocato, padre di dieci figli, marito, sono bellissime le lettere alla moglie ad esempio creatore di opere nei più diversi settori, creatore di banche ma poi ce ne parlerà il dottor Camadini di scuole, di riviste per insegnanti, di giornali, di riviste per insegnanti, di mutue, di casse rurali c'è da rimanere stupiti come in poco meno di vent'anni si è riuscito a fare tante opere ma appunto Tovini è uno che oggi ha molto da dire a chi fa le opere questo è il motivo ed è anche il destinatario, sono innanzitutto i destinatari di questa mostra sono quelli che fanno le opere perché l'incontro, lo scopo di questa mostra è di essere anche come abbiamo cercato di renderla chi non l'ha già vista, che la vedrà, vedrà che è molto particolare, sono tre video, non c'è un pannello in cui è Tovini che parla in prima persona proprio perché abbiamo voluto che fosse l'incontro con una persona, l'incontro con lui e se posso fare una nota personale è l'incontro che ha colpito me perché leggendo Tovini è impossibile rimanere leggendo la sua vita, leggendo i suoi interventi leggendo le lettere alla moglie è impossibile non cambiare e quindi questo è lo scopo anche perché soprattutto per chi è impegnato nella società, nella politica, nell'economia è importante che resti viva la tradizione, cioè la consegna che ci passa a chi ci ha preceduto pensare oggi di fare le opere ignorando duemila anni di cristianesimo soprattutto ignorando quella grande stagione della creazione di opere che è stata la seconda metà dell'ottocento sarebbe un delitto ma innanzitutto per noi stessi perché appunto come come diceva Don Giussani prendere sul serio la tradizione cristiana prendere sul serio la chiesa come storia ecco il primo dovere della nostra coscienza e quindi il più urgente dovere della nostra vita culturale perché da questa sarà generato il nostro lavoro sul mondo ma anche Monsignor Montini in quella bellissima introduzione ricorda anche che quando c'è questa coscienza lo dice di quei di quell'epoca ma vale anche per noi oggi che non è appunto una cosa da poco dice anche in piccole e borghesi vicende come quelle in cui opera Tovini questa modesta storia ebbe i tesori di dottrina di virtù di grazia ebbe gli intenti ebbe gli ideali e gli eroismi ebbe la visione grande del popolo da salvare della chiesa da servire del regno di dio da difendere e dilatare ebbe i suoi santi cioè che anche vivendo la realtà che ci è data di vivere si può scrivere una delle grandi pagine delle storie della chiesa questo è l'insegnamento che dato Vini oggi credo innanzitutto e questo è diciamo il motivo per cui abbiamo proposto questa mostra io chiedo stusa se sono stato lungo volevo semplicemente prima di introdurre i nostri due relatori innanzitutto ringraziare oltre a loro che hanno dato una mano significativa nella costruzione della mostra anche tutte le persone che hanno lavorato a questa mostra in questo anno volevo anche salutare le varie personalità che sono tante presenti io spero di non dimenticare nessuno ma il sindaco di Brescia onorevole Paroli il presidente della provincia Cavalli il presidente della commissione lavoro della camera Saglia l'assessore ai trasporti della regione Lombardia Cattaneo sua eccellenza Monsignor Negri vescovo di San Marino Montefeltro sono tanti amici spero di non dimenticare nessuno e il sindaco di Cividate Camuno che in questa carica è un successore di Tovini e quindi che ringrazio di essere di essere qui oggi i nostri due relatori sono due personalità già note al meeting perché sono amici che sono già hanno già partecipato al meeting li introduco secondo l'ordine degli interventi innanzitutto il professore Edoardo Bressan che insegna storia contemporanea presso la facoltà di scienza della formazione dell'università di Macerata i suoi studi hanno riguardato le istituzioni sociali tra 700 e 900 fino ai recenti sviluppi del welfare state con particolare attenzione all'azione caritativa del cattolicesimo Lombardo e italiano è uno grande studioso che abbiamo già prestato al meeting in particolare proprio in riferimento a quella grande epopea che è stata il movimento cattolico dell'ottocento è più arduo presentare il dottor Giuseppe Camadini ha un titolo fondamentale che è il presidente della fondazione Tuvini ma ha tanti altri titoli che io spero di non dimenticare taglio è sostanzialmente uno di quelli grazie ai quali possiamo dire anche che esiste un'attualità di Tuvini oltre che nel messaggio proprio nella realtà perché è stato uno di quelli che ha portato avanti le opere che Tuvini ha fatto nascere e quindi questo è incontestabile quindi ed è per me è stato fra l'altro una grande sorpresa se posso dirlo anche l'amicizia che è nata perché veramente si capisce appunto quello che diceva Montini che quando diciamo quella difesa della vita cristiana non fu ceca reazione né pedestre ricostruzione di un passato perduto sibbene nuova costruzione nuova generazione di innumerevoli e geniali istituzioni che documentarono e documentano ancora oggi poiché questo processo non è ancora finito come il cristianesimo quando è vivo negli animi diventa per forza endogena operante benefico rinnovatore e creatore questo è intanto il messaggio che ho trattenuto io dall'incontro con Tuvini e dall'incontro di quelli che Tuvini ha profondamente segnato lascio la parola innanzitutto al professor Bressan Onorevole Vignali ci ha parlato del punto di partenza delle motivazioni della della bella mostra che potete vedere anzi direi di più di questa avventura in cui mi ha coinvolto e per questo lo ringrazio come lo ringrazio delle parole di presentazione e dell'occasione che mi offre di essere qui stasera il dottor Camadini ci farà vedere il punto d'arrivo l'esito dell'esperienza di Titovini io mi limito a riprendere alcuni aspetti di questa vicenda di amicizia e di azione di azione e di amicizia che ha il suo punto d'avvio in Valcamonica e che ha e che ha il mondo però l'Italia il mondo come orizzonte quasi quasi che da parte di Titovini venga ripresa l'antica tradizione alpina di partire avendo però sempre nel cuore la propria comunità le proprie radici i volti delle persone care e degli amici certo in quegli anni si trattava di un viaggio difficile metaforicamente si intende ma per lui per Titovini e per un'intera generazione la difficoltà era davvero ardua che cosa che cosa voleva dire essere nati nel 1841 voleva dire diventare giovani durante il risorgimento durante il travagliato compimento dell'unità nazionale e diventare uomini maturi dopo i fatti compiuti del 1870 e dopo la legge delle guarantigie del 1871 entrando in scena più tardi ma con un forte e inevitabile condizionamento dovuto a queste circostanze è storia nota della storia della questione romana del papa rimasto prigioniero in Vaticano grazie a un dissidio che si risolverà soltanto con i patti lateranensi del 1929 e non dimentichiamo sarà solo Pio XI a benedire da pontefice la folla dalla loggia esterna della basilica di San Pietro ed è la storia al tempo stesso dei cattolici che rimangono lontani dalla vita politica nazionale in seguito al non expedit né eletti né elettori anche qui fino ai primi del nuovo secolo fino all'età giudiziana è la frattura che accompagna la nascita della nuova italia del nuovo regno è il cuore diviso fra cittadini e credenti di cui si è tanto parlato e che conosce sia l'aspetto territoriale legato alla santa sede una santa sede che già con Pio IX e poi con Leone XIII si proietta in una dimensione sempre più internazionale ma sia anche l'aspetto relativo alla presenza della Chiesa in Italia non meno importante e su questo terreno si concentrano paradossalmente il vecchio giurisdizionalismo il controllo dello Stato sulla Chiesa attraverso il Placet e l'exequatur che impediva o ritardava la presa di possesso delle diocesi da parte dei vescovi e il nuovo secolarismo con una politica duramente anticlericale che coinvolgeva la scuola gli ordini religiosi i beni ecclesiastici più tardi le opere pie sia pure e certo con una diversità di accenti tra la destra storica e le componenti più radicali della sinistra quelle che poi si affermano verso la fine del secolo XIX è in questo senso che si comprende il confronto lo scontro fra Tovini e una personalità come quella di Giuseppe Zanardelli un uomo di grande rilievo politico nazionale l'autore della riforma elettorale del 1882 del nuovo codice penale un confronto leale sicuramente Zanardelli riconoscerà le doti umane e cristiane di Tovini alla fine ma un confronto vero un confronto aspro e quello che occorre notare a questo punto dopo aver ripreso brevemente il contesto come fa la mostra all'inizio è la risposta dei cattolici ecco i cattolici non si fermano alla contestazione dello Stato liberale alla denuncia di una situazione sia pur grave come quella che si era determinata sia pur gravissima in certi casi ed è qui che si colloca la nascita del movimento cattolico dell'opera dei congressi dell'intransigentismo cattolico quello che risponde positivamente alle ragioni del non expedite che nasce con gli anni settanta con i congressi di Venezia e di Firenze e che poi conosce questo grande sviluppo questa esplosione negli anni ottanta e novanta dell'ottocento e senza questo è importante senza un progetto ideologico da contrapporre ad altri o quella che era l'ideologia liberale ma piuttosto con la preoccupazione di rispondere alla situazione del momento una situazione difficile grave è l'Italia della crisi agraria è l'Italia degli squilibri provocati dalla prima industrializzazione è l'Italia che conosce il dramma dell'emigrazione rispondere a tutto questo a partire da un'esperienza di fede vissuta e allora l'obiettivo e il risultato di questo è la costruzione di una presenza nella società questo è il punto una presenza della società che si allarga che abbraccia diversi ambiti di intervento pensiamo anche per capire quella straordinaria fioritura di opere in particolare quelle create da Tovini di cui la mostra dà conto le attività economico-sociali il mutuo soccorso la beneficenza il credito popolare la banca la cooperazione le colonie agricole l'associazionismo operaio gli albori di un sindacato tutto ciò che nel 1891 con parole profetiche e rivelatrici la rerunovara un fa suo e incoraggia e invita i cattolici ad andare avanti a continuare è bellissima nella mostra l'immagine di Leone XIII andate avanti vincerete continuate con la vostra battaglia e poi il grande tema dell'educazione l'educazione che è la difesa della scuola cattolica ma anche altro è la libertà di insegnamento è la difesa dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica è l'associazionismo studentesco e magistrale è il progetto di una università cattolica per i cattolici italiani che mancava che sarebbe mancata ancora per un po' di tempo e che Tovini già intravide invece e poi ancora il grande risalto dato al problema della comunicazione i giornali le riviste le riviste specializzate pensiamo appunto alle riviste pedagogiche magistrali ma anche a quelle dedicate al tema sociale agraria e infine ma solo così una sommaria elencazione il tema della difesa dei corpi intermedi a partire dalla famiglia intesa come sviluppo naturale della persona ma è una difesa che si traduce in un impegno civile in tutti i campi e in tutti i sensi e non dimentichiamolo in una puntuale responsabile intensa partecipazione alla vita amministrativa i comuni le province sono società naturali precedono lo Stato per i cattolici come lo stesso pontefice avrebbe ribadito è un dovere e non soltanto un diritto quello di esserci ed è qui allora che questi cattolici ritrovano le libertà liberali chiedendo chiedendo allo Stato di difenderle davvero in senso non utilitaristico individualistico ma per il bene del popolo e nel rispetto dei suoi valori come ci ha richiamato prima sua eminenza il cardinale Bagnasco certo c'è una diversità di accenti nel mondo cattolico in taluni casi ci sono chiusure c'è la difficoltà a far proprio questo nuovo orientamento ma ma ci sono appunto anche le aperture coraggiose e sono quelle dei più e ci sono gli aspetti forse più particolari quali per esempio se così posso dire le peculiarità di Tovini del cattolicesimo Bresciano io direi in primo luogo questa volontà di costruzione di una cittadinanza di una cittadinanza condivisa in cui i cattolici non sono più fratelli minori rispetto ad altri ma sono cittadini come gli altri ecco questo è il frutto di quella passione civile di cui ha parlato Giacomo Scanzi che anima profondamente il cattolicesimo Bresciano Tovini i suoi amici per i quali la formula del non expedit da né eletti né elettori diventa non a caso preparazione nell'astensione preparazione preparazione già però con un impegno fattivo e vivo nel momento l'obiettivo è la cittadinanza i giornali come si chiamano questi giornali il cittadino di Brescia ma poi il cittadino di Monza il cittadino di Macerata è un elemento ricorrente e direi un secondo aspetto altrettanto importante la partecipazione alla vita nazionale e quanto diceva Giorgio Rumi essere guelfi ecco questo guelfismo del cattolicesimo Bresciano Tovini risponde molto duramente all'accusa rivoltagli dal giornale di Zanardelli nel 1882 di essere antipatriota ed antitaliano Tovini dice che si può amare da parte dei cattolici la libertà e l'indipendenza del pontefice amando anche la grandezza della patria italiana questo è un punto importante i cattolici sono cittadini italiani e questa è la loro collocazione in uno scenario in cui ormai urgono tutte le istanze tutte le esigenze legate a un grande processo di modernizzazione economica e sociale se vogliamo in tutto questo si può ravvisare e lo si vede bene io credo il legame con l'eredità rosminiana con quell'ispirazione che lui aveva fatta sua al collegio al collegio mazza e che proprio portava a questo portava alla alla condivisione di un destino nazionale comune e di una comune cittadinanza per tutti allora e concludo il problema per Tovini non è quello in realtà successivo di un ipotetico partito cattolico ma di una testimonianza nella società nelle forme e nei modi possibili che contribuisca con la sua chiarezza e con la sua esemplarità un'esemplarità oggi riconosciuta dalla Chiesa con la beatificazione appunto dieci anni fa che contribuisca con tutto questo e sono parole di Tovini al bene verace e stabile sia dell'Italia sia della società da credenti da cittadini da uomini appassionati della giustizia grazie ringrazio ringrazio il professor Bressan per il suo anche appassionato oltre che competente intervento che ha ricostruito il contesto in cui questi uomini e Tovini in particolare operarono e lo ringrazio anche per il contributo che ha dato al lavoro della mostra noi abbiamo avuto due persone che da un punto di vista storico non essendo io uno storico nemmeno gli altri quelli che lavoravano con noi che hanno dato un contributo in termini di supporto proprio di competenze perché hanno studiato a lungo sia la storia ma anche Tovini che sono appunto il professor Bressan e anche Giacomo Scanzi che è il direttore del giornale di Brescia che è anche biografo di Tovini che è qui in sala con noi la parola ora al dottor Camadini che ci dirà qual è l'attualità di Tovini oggi dottor Camadini il quale deve appare esare innanzitutto lo scrupolo quasi il disagio di essere qui nel senso che dopo poi un'introduzione così autorevole una prolusione così sinteticamente ma incisivamente efficace quella che ha fatto del te il professor Bressan disagio e scrupolo si sono cresciuti comunque ho cercato di dare ho cercato di dare un titolo a questa conversazione che spero non sa tardi troppo nella serata e mi è venuto all'insegna di o protagonisti o nessuno il ricordo di Giuseppe Tovini per cogliere quindi la correlazione e la prima considerazione è che questa intitolazione che può essere soggettivamente intimamente stimolante cioè volta a far assumere uno slancio operativo nella vita per affermarvisi in modo efficace emergente attivo e forse anche esemplare invitando a non rimanere o cadere nell'anonimato però questa intitolazione può essere anche provocatoria sul piano sociale contestatrice del modo d'essere della vita contemporanea dove anziché l'essenza solo l'effettualità spesso appare comunque premiante senza che sia riservato e dovuto riguardo all'ordine e alla gerarchia dei valori ma può rilevarsi e rivelarsi forse che nell'intitolazione vi sia in effetti opportunamente voluta una equivocità intrinseca affinché essa svolga la sua avvolgente suasività la sua capacità di logico stringente condizionamento inesorabilmente sospingendo a considerare anche le drammatiche contraddizioni che caratterizzano il vivere oggi al fine di indurre ad orientarne l'interpretazione in rapporto al credo evangelico al Cristo si può constatare allora che ancora una volta il meeting sappia andare così al cuore dei problemi cogliendo un aspetto essenziale del vivere dell'uomo contemporaneo cioè riesca a stigmatizzare le dissociazioni presenti manifeste o latenti nella vita quotidiana nell'esistenza comune le contraddizioni fra l'essere e l'apparire fra ciò che si dovrebbe essere e ciò che di fatto ci è il dramma investe la coscienza di ciascuno non si può eluderne l'urgenza esso un'ora riemerge e torna ad intaccare la nostra capacità di valutazione critica riverberandosi e ricadendo immediatamente sulla vita di ciascuno ad ogni giorno ad ogni momento le proposizioni della filosofia relativista materialista supportata dal problematicismo e dal fenomenologismo rodono dall'intimo l'integrità esistenziale dello spirito e del pensiero contemporaneo al riguardo allora cosa può dire oggi Giuseppe Tovini risponderei che la vita merita d'essere vissuta in pienezza di umanità ma nella fede praticandone con personale coerenza anche comunitariamente le implicazioni etiche secondo il Vangelo mi ero trovato talora a pensare fra me e me forse indotto in questo timore da un non sopito senso di rammarico quale Bresciano e Camuno chi non lo sapesse la Val Camoni che fa parte della provincia di Brescia che Giuseppe Tovini nonostante la sua elevazione a beato tale proclamato da Papa Voitivo in Brescia il 20 settembre 1998 fosse per lo più invero di fatto se non dimenticato da molti sottovalutato e pur infondatamente considerato datato ciò nonostante che grazie anche alla fondazione a lui intitolata ma non al suo presidente attuale sorta quella fondazione operante in Brescia per merito di un'altra grande anima santa il Bresciano Vittorino Chizzolini che della causa toviniana fu per decenni il vero postulatore dicevo ciò nonostante che quella memoria sia stata peraltro ininterrottamente tenuta viva soprattutto proponendo nell'esemplare testimonianza ai giovani e specificatamente a quelli ospiti della famiglia universitaria facente capo alla citata fondazione ciò si è fatto poiché convinti che esiste in Giuseppe Tovini un preciso valido luminoso riferimento tuttavia essendo talora quasi rassegnati a considerarne l'eco come per lo più ristretto nel nostro ambito provinciale sicché quando venne a trovarmi l'onorevole Raffaello Vignali che io non avevo il piacere e l'onore di conoscere che adesso accolgo ben volentieri il riferimento che gli fa in termini di amicizia alla mia persona per confermarmi a nome del meeting la determinazione assunta di ricordare Tovini come esempio significativo rappresentare in questa sede di fronte così qualificato auditorio l'esigenza di una forte presa di coscienza da parte della nostra cattolicità non solo in Italia delle proprie responsabilità e potenzialità di fronte alle esigenze emergenti e a crisi della fede del nostro popolo un senso quasi di stupore ma anche di vivo compiacimento intimo mi colse ciò rammento si va di bene non per far emergere il pur comprensibile sentimento di bresciana locale affezione alle cose per così dire familiari ma per manifestare la sensazione e l'auspicio che qualcosa di virtualmente assai più grande si possa dischiudere anche da questa riscoperta di Tovini fatta in questa sede nel contesto di una quotidianità che taluno afferma la nostra quotidianità contemporanea come post cristiana e post moderna in una indistinta rincorsa di un futuro che rischia di far cadere l'esistenza umana come immanentisticamente appiattita su utilitarismo consumismo materialismo dove gli ideali stanno nella ricerca del potere del denaro nell'istintualità del sesso nell'edonismo comunque si rifugge la realtà del dolore oggi e della morte così inibendosi la comprensione della realtà della vita e ci si immerge nelle alienazioni della droga del permissivismo indiscriminato così credendo di superare le anomalie sino a cercare la legittimazione civile delle irrazionalità ad esse intrinseche come ad esempio per l'aborto e per l'eutanasia gioverà quindi ricordare Tovini anche tramite ma al di là dell'aspetto documentaristico peraltro così bene e genialmente curato e me ne compiaccio nella mostra qui allestita che veramente ho ammirato se sapremo cogliere l'eloquenza viva del messaggio ancora attuale che vi scaturisce in vero citando oso farlo Virgilio me minisse iuavit gioverà aver ricordato gioverà quindi andare alle fonti dell'ispirazione toveniana devo premettere che sono ben consapevole della mia personale inadeguatezza guardate che ve lo dico solo per ragione di verità di fronte all'impegno che mi è stato proposto e che come presidente della Tovini sono sentito di non poter rifiutare e quasi vorrei scusarmi di ritrovarmi ma ancora una volta i promotori hanno anticipato il ringraziamento per un'accettazione non espressa come se l'avessi manifestata e con il che sono stato insaccato devo altresì premettere che le mie parole anche con opinioni che saranno in parte evidentemente personali e me ne scuserò riveleranno una certa rapsodicità di contenuti risultandomi assai arduo dare un aspetto sistematico organico a considerazioni che toccano che debbano necessariamente toccare contestualmente passato e presente per cogliere il significato vero del ruolo proprio svolto dai protagonisti nella storia qui ci sono gli storici che me lo insegnano è necessario avere presente la prospettiva in cui si colloca la loro esistenza ma soprattutto pare a me è necessario identificare a quali valori essenziali si sia ancorata la loro vita quali intenti reali abbiano perseguito quali risultati conseguiti il che è vero anche per i contemplativi itineranti nel mondo di cui si dice nel bellissimo volume Santità Sociale in Italia di Giorgio Rumi citiamolo questo grande storico egli richiamando la spiritualità nella chiesa italiana nell'epoca fra leone cimo terzo e più decimo primo giustamente sottolinea come all'azione precedette l'intensità della vita religiosamente vissuta ed evoca come emblematiche le figure di Maddalena di Canossa di Ermida Barelli di Agostino Gemelli e di Giuseppe Tovini e scrive in premessa è una citazione un po' lunga ma sento il dovere di farla tra 8 e 900 affiora una sorta di riscoperta di San Benedetto una conciliazione tra Opus Dei e Opus Manum non c'entra nel contratto tra Opus Dei e CL qui un giusto apprezzamento delle potenzialità trasformatrici dei singoli e del lavoro collettivo una santità della vita ordinaria non più quindi segregata dal tempo storico ma tese invece a farlo meno difforme dalle speranze insite nella propria ispirazione è un'attenzione al moderno che evita puntualmente la separatezza come la subalternità che ignora l'anatema ma non indulge certo nel mimetismo sono dei grandi italiani dediti alla riconsacrazione del paese alla riscoperta del suo fondamento cristiano una storia ancora tutta da scrivere la loro memoria va sottratta al culto particolare dei rispettivi devoti stimatori restituiti invece alla coscienza collettiva povera ormai di fermenti di spiritualità e perciò sempre più incerta ed ansiosa sul senso ed il valore del proprio destino così anche per Tovini pare necessario ricercare e cogliere al di là degli aspetti contingenti i temi di fondo che ne hanno caratterizzato la sua testimonianza e cioè come già enunciato la fede cattolica la coerenza morale e l'impegno operativo mosso nell'azione dall'amicizia socialmente praticata e generosamente vissuta in reale e leale comunitarietà e per il tramite di concrete istituzioni le opere un'ispirazione dinamica dalla fede e dalla coerenza morale alle istituzioni in spirito di carità e di amicizia la fede in Dio Padre rivelataci da Gesù Cristo nello Spirito Santo come la Chiesa ci fa conoscere e praticare secondo la parola dei profeti del Vangelo sino a noi trasmessa da Pietro dagli apostoli e dei loro successori non paia pleonastico l'affermarlo poiché qui sta il fondamento di tutto Tovini nella fede una fede semplice vissuta in integra autenticità una fede apertamente professata la fede che ci apre alla comprensione del mistero tramite la luce che la grazia partecipata ci dei sacramenti penetra e si espande nel nostro intelletto nel nostro cuore così essendo una fede personale la fede che ci accomuna come fratelli perché tutti figli di Dio così divenendo noi il popolo di Dio la fede del popolo di Dio ed allora viene immediato e spontaneo il chiedersi pensando a Tovini e dal suo tempo ma fino a che punto la fede la fede nell'ambito della cattolicità di oggi è ancora una fede realmente sentita e vissuta da noi come popolo ed in modo coerente in che misura la fede popolare di oggi in quanto sussiste non è talora se non spesso più fenomeno di esteriorità di tradizionalità ambientale di generica sentimentalità istintiva se non di formalistica adesione ad un incerto sentire populistico piuttosto che atto cosciente di personale testimonianza si avverte talora la percezione come della manifestazione di un credo non autentico non quel credo che ha trovato una recente solenne affermazione con il pronunciamento che Papa Paolo VI ha formulato idealmente presentato al mondo intero il 30 giugno 68 chiamando ad accoglierlo esponenti qualificati delle più varie componenti dell'intera umanità in occasione della storica chiusura cibadi dell'anno della fede quando Tovinio però egli e quanti con lui si accomunarono in quella stagione creativa agì anche come espressione di un popolo fedele un popolo in verità che era forse in buona parte ancora analfabeta nelle lettere ma non nella fede è sempre necessario come accennato allargare lo sguardo retrospettivamente cogliendo come espirò il vento dei tempi passati per essere aiutati a cercare di scrutare in quanto possibile quali venturi Giacomo Scanzi nella sua preziosa biografia di Tovini tratteggia un'efficace sintesi dei frutti delle precedenti fonti storiche in special modo del lavoro compiuto da Antonio Cistellini nonché di quello degli estensori della ricca posizio super virtutibus redatta nel corso della causa e beatificazione in quel volumetto discorrevo la lettura lo si trova credo in circolazione anche qui presso il meeting l'autore puntuale competente informazione e scelta documentazione bene illumina gli eventi storici e individua il fenomeno prima accennato quando parlando dell'ascesa al potere alla fine del 1870 della seconda generazione della classe dirigente liberale quella radical zanardelleana non si dimentichi che zanardelli era bresciano così dice scansi credono nel progresso questi uomini nuovi e combattono tutto ciò che sembra oscurare il cammino di conquista e di emancipazione il primo nemico il popolo custode di tradizioni troppo sensibile alla parola dei preti al loro sistema di valori e soggiunge come deve essere apparso pesante a questa elite degli studi medici delle università delle farmacie dei tribunali il fardello popolare con la sua fede radicata le sue devozioni i suoi ritmi le sue superstizioni la sua fame le sue gerarchie sociali persistenti nonostante i carabinieri i prefetti la lotta dice la lotta si va di bene sottolineo io intorno al processo di unificazione cambia registro il problema non è più la legittimità del risorgimento con venature d'antico regime la lotta è intorno alla sostanza della nuova nazione alle idee fondative della nuova convivenza nazionale alle radici agli sbocchi la lotta è per dirla con Tovini scanzi cita Tovini intorno all'anima della patria e può dedursene permetto dire io anche il fervore religioso del popolo italiano di allora ora non l'avversità di un potere costituito ma si è piuttosto affermata la penetrazione per non dire l'aggressione spesso ben mascherata di una ondata cultural-mediatica mossa da presunzione di immanentistico vincente pensiero laicista comunque senza ricerca di avversari alevi a noi oggi compete di cogliere il fatto che è un problema essenziale vero per la nostra generazione di cattolici e anche quello di nuovamente vivere intensamente la nostra fede personale in modo che essa sia anche comunitaria fede di popolo il popolo di Dio incarnato nel nostro tempo nella nostra storia tra loro il contesto sociale in cui si ritrova la nostra umanità pare persino impermeabile alle conseguenzialità etiche del Vangelo intrinseche alla visione della vita propria proposta dalla fede dalla fede cattolica e insegnata dagli apostoli e costantemente dai loro successori trasmesseci bisogna ben aver coscienza che il comportamento nella vita è individuale soggettiva familiare prima ancora che sociale è presupposto essenziale a che si realizzi e quindi possa manifestarsi e parteciparsi la nostra personalità umana in quanto cristiana in essenza di ciò l'azione nostra anziché un'attestazione di adesione al Cristo può finire con l'essere almeno parzialmente si può pensare magari involontariamente una controtestimanianza certamente non bisogna giudicare il fatto individuale mai che va comunque sempre rispettato se autentico poiché non bisogna escludere mai i sussistenti possibili virtualità e spazi di positività anzi si deve avere ampia considerazione e l'accettazione di ogni disponibilità al bene anche perché nessuno deve presumere di sé io prima di ogni altro né assolutizzare la propria valutazione relativa tutti possono concorrere serettamente motivati a generare il bene a costruire il bene personale comunitario ma è pur necessario che si cerchi di cogliere individuare ed evidenziare il dover essere affinché l'esistente vi si conformi o in quanto possibile adegui così è anche di innanzitutto per la pietà la devozione a Dio la preghiera ad essere il momento più alto della vita poiché ci protende verso Dio purché anch'essa sia pura cioè spiritualmente obiettivata personale non individualista Dovini praticò costantemente il culto alle Eucaristie e la devozione alla Madonna al congresso eucaristico di Milano nel 1895 nel contesto del suo intervento affermò cito ricordiamo che per professare francamente la nostra fede ci vuole una forza soprannaturale che non si può ottenere che da Dio con la preghiera e con la comunione frequente fede coerenza nell'azione e pietà in Tovini hanno trovato una sintesi piena ed altissima questo uomo citerò anch'io qualche dato biografico velocemente nato a Cividate come è stato detto in Valle Camoniche lo sottolineo il 14 marzo 1841 pervenuto felicemente al compimento degli studi anche universitari proveniente da una famiglia piccolo borghese ma di scarsi mezzi economici a seguito delle crisi economiche sociali precedute superando incessanti difficoltà anche fisiche oltre che spirituali personali e ambientali divenne avvocato ricercato e stimato immotivatamente da taluno che forse pecca di presunzioni paraforensi o paraaccademiche ritenuto più dotto per processi discursi a tutela e beneficio di opere pie che per dottrina dovini sposo esemplare padre dieci figli si prodigò con intelligenza e generosità estreme per realizzare una presenza efficace dei cattolici nella società italiana impegnandosi anche in competizioni elettorali nei limiti allora ai cattolici consentiti dal non expedit che lo videro sindaco del paese natio e si è stato detto poi consigliere comunale di Brescia consigliere provinciale promotore di una serie di opere di istituzioni volte alla primaria finalità della educazione cattolica coinvolgendo con sé ampie collaborazioni come primo presidente del comitato diocesano cattolico di Brescia vicepresidente del comitato regionale lombardo dell'opera dei congressi vicepresidente del comitato generale permanente dell'opera e presidente generale del terzo gruppo dell'opera cioè quello particolarmente incaricato dei problemi riflettenti di istruzione fu quindi fervente cattolico ed un esemplare cittadino come è stato giustamente e molto autorevolmente sottolineato ma per fare ciò egli dovette cozzare contro quella dirigenza politica anzi ricordata la quale se aveva e poteva scrivere il suo prevalente assai rilevante merito storico l'aver realizzato l'unificazione politica dell'Italia rivelava al contempo i suoi limiti a fronte dell'emergente realtà delle nuove istanze popolari e sociali ciò forse perché il risorgimento liberale aveva per lo più trovato forte ispirazione in aristocratiche elite ma di necessità fa riconosciuto aveva nascoste inizialmente le sue culle in circoli riservati quando non addirittura talora segreti le citate urgenze popolari emergenti si prospettarono via più come esigenti una concezione della libertà in cui doveva trovare spazio anche il diritto alla libertà di insegnamento come espressione di diritto alla libertà di educazione tovini affrontò allora questa vitale questione con la forza di chi sente di difendere nella libertà di educazione e di insegnamento la libertà stessa dell'uomo una condizione essenziale per la sua autentica promozione e così anche la libertà di educazione alla fede nella fede ancora una volta si rivelava in effetti che la libertà pur non essendo in sé un valore assoluto è tuttavia una condizione di fatto essenziale per la piena promozione e affermazione della persona umana ed il liberalismo pur dotato come detto di tanti meriti tuttavia evidenziava anch'esso di fatto almeno in alcune sue componenti tra l'uni aspetti di intransigentismo illiberale il divaricarsi della coscienza sociale e politica dalla coscienza popolare e religiosa può portare talora ad aberranti deviazioni storiche non appaia quindi peregrino il menzionare in questa sede accostandoci alla considerazione dei tempi successivi e quelli di Tovini e per ribadire la necessità che non si smarrisca mai la consapevolezza del significato storico degli eventi e della caratteristica di essenzialità della libertà due testimonianze dico di citare due testimonianze che ci provengono dal secolo scorso il novecento il secolo cosiddetto breve talora ma drammaticamente lungo segnato da tanto progresso scientifico sì e tecnico e pur tuttavia altresì da tanti dolori ed equivoci Boris Pasternak che il 5 marzo 33 scriveva da Mosca ai suoi genitori in Germania si trovavano in Germania Hitler era cancelliere da due mesi miei cari miei cari mamma e papà auguro di tutto cuore come pochi altri fanno che sia coronato da successo qualsiasi tentativo di costruire un'umanità finalmente umana mi tormenta su Giunghi la stessa cosa nel nostro sistema qui era in Russia e nel vostro per quanto possa sembrarvi strano cioè il fatto che si tratti di movimenti nazionalistici e non cristiani che corrono l'uguale rischio di scivolare nel bestialismo del fatto e che comportano un'identica rottura con la tradizione secolare misericordiosa che si nutriva di trasformazioni e di prefigurazioni e non delle mere constatazioni della cieca inclinazione sono due movimenti gemelli si riferisce al nazismo e al marxismo di pari livello dove uno emula l'altro il che è sempre più triste sono le due ali destra e sinistra della stessa notte materialistica e sappiamo come finì sappiamo pure quale dramma investì l'Italia con la seconda guerra mondiale valga a richiamarci ancora all'essenzialità condizionante del valore della libertà incitare la preghiera di Teresio Livelli il martire ribelle per amore tale manifestatosi provenendo da una generazione che nella prima giovinezza non aveva mancato di sentire in parte l'influsso del clima fascista ma almeno in sue qualificate élite non aveva poi mancato altresì tosto di identificare e prevedere le implicazioni finali che ne sarebbero derivate infatti il regime aveva talora anche con violenza ridotto al silenzio le voci di senzienti ed attaccato pure dopo la relativa bonaccia del periodo concordatario alle organizzazioni cattoliche cercando di condizionarle specie quelle giovanili con le proprie strutture e visioppose forte la voce di Pio XI con la famosa lettera enciclica non abbiamo bisogno la perdita della libertà non sempre è lì per lì un fatto eclatante talora può incorporarsi nel contesto sociale gradualmente in modo strisciante avviandolo come su un piano inclinato donde l'esigenza di una costante vigilanza prima interiore personale quindi anche sociale ad evitare il dramma finale che purtroppo poi non manca quasi mai sia chiaro non penso che oggi in Italia non penso che oggi in Italia noi ci si ritrovi sui fatti versanti penso invece che in un contesto purtroppo di transizione non chiara possano sciuparsi e disperdersi le potenzialità esistenti di uno sviluppo positivo della vita della nostra società sviluppo positivo che può realizzarsi solo a condizione che la generazione nuova sappia proporsi un progetto di crescita morale secondo positivi valori di libertà di pace e di solidarietà umana cristianamente ispirata così resta ancora attuale ascoltare Olivelli in preghiera cito Signore Dio quanto più s'addenza e incupisce l'avversario facci limpidi e diritti nella tortura serra le nostre labbra spezzaci non lasciarci piegare se cadremo fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente a quello dei nostri morti a crescere al mondo giustizia e carità tu che dicesti io sono la risurrezione e la vita rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa questi cattolici caduti in quell'epoca venendo quindi ancora più prossimi a noi non possiamo dimenticare altresì le vicende seguite alla penosa conclusione della seconda guerra mondiale dalle cui conseguenze felicemente ci si riscattò grazie primariamente all'azione sociale e politica di onesti cattolici che nella democrazia cristiana guidata da Alcide De Gasperi seppero trovare forza personale e sociale anche operativa per una presenza che fu capace di aggregare pure altre energie di diversa ispirazione ma di comune sentire autenticamente democratico si trattò di una battaglia per la libertà per certi aspetti aspre ed anche amara io ero un ragazzo quindi non ho né meriti né demeriti però ho dei ricordi molto precisi una battaglia dicevo aspre ed amara ma giusta e vincente quella battaglia che si impose come premessa per la promozione di una ricostruzione che fu economica ma che innanzitutto dovesse essere anche morale sarebbe fuori di luogo cercare di tratteggiare qui anche solo sommariamente quanto accadde poi penso debba tuttavia almeno dirsi che la crisi iniziò a manifestarsi quando entro e fuori le forze democratiche eppure entro la democrazia cristiana emersero inadeguatezze etiche e forti contrapposizioni dialettiche correntizze più motivate da parziali interessi che da idee si rivelò ancora vera l'amara constatazione che Giovanni Battista Montini Don Battista Montini scrivendo da Varsavia dove si trovava addetto a quell'annunziatura apostolica al padre Giorgio deputato del Partito Popolare scrivendo il 15 luglio 1923 aveva 26 anni l'autore della lettera all'indomani delle dimissioni di Don Luigi Sturzo dal segretario di quel partito aveva annotato in un'ampia lettera recante acute analisi dei fatti che trattavasi di un indice della radicale incapacità nostra di cattolici a mantenerci coerenti uniti e forti nell'ambito della vita pubblica italiana tornando a noi può dirsi che si trattò dopo gli anni 50 di un'ampia dialettica contrapposizione di forze correnti che generò spinze centrifughe correlantisi poi con processi contestatori che all'interno andarono ricependo mutazioni usubendo pure interferenze internazionali anche eversive l'emergere di intransigentismi contrapponentesi tra loro con il vener meno in molti anche di un'autentica tensione morale portò alla situazione dei nostri giorni non avrebbe senso ripeto qui ripercorrere le varie fasi succedute sia a partire da Marcuse dal 68 in poi prima e dopo il terrorismo con la manifestazione di fenomeni di contestazione sociale che potrebbero individuarsi anche come vere e proprie anomalie funzionali rispetto allo stesso sistema costituzionale ed individuabili e denominabili come pan-partitismo pan-sindacalismo pan-giurisdizionalismo volta a volta avvocanti ad una parte o all'altra del corpo sociale ruoli eccedenti gli ambiti costituzionali loro propri tali fenomeni non mancarono talora di addebitare alla carta fondamentale carenze che si dovrebbero piuttosto imputare all'azione dei contestatori stessi purtroppo forse le conseguenze di quella deriva non sono ancora del tutto finite forse più che le talora invocate modifiche della Costituzione gioverebbe che se ne rispettasse l'ispirazione poiché le formulazioni originariamente concepite secondo un alto sentire civile se sono forse in parte emendabili rimangono tuttavia sostanzialmente valide è vero opinione personalissima è vero che sono andate mutando profondamente anche le condizioni culturali e politiche internazionali o tra quelle interne ma va detto che ogni intransigentismo è contrario alla democrazia è necessario saper ricercare e trovare attraverso una rinnovata mediazione culturale una linea di orientamento etico sociale per quanti intendano impegnarsi per un autentico cammino democratico confidando che le forze politiche sappiano darsi un assetto anche interno di trasparente intelligibilità e credibilità e di oggettiva funzionalità quanto i cattolici potrebbe osservarsi che essi a fine ottocento ebbero nella preparazione e nell'estensione il criterio per un loro comune orientamento nel contesto di una temperia storica che li condizionava entro il non expetite ed il loro comportamento fu sapientemente indirizzato allora alla preparazione di una comune testimonianza sociale e politica e poi si realizzò prima nel partito popolare e quindi che poi si realizzò prima nel partito popolare e quindi nella democrazia cristiana è evidente che se oggi non avrebbe alcun senso né giustificazione una non partecipazione alla vita sociale è peraltro evidente altresì che sono superate le congiunture storiche che condussero allora ai menzionati positivi esiti e non è pensabile una riviviscenza di esperienze passate valide e ieri non più riproponibili il che non fa necessariamente escludere peraltro l'edentualità che in alternativa al bipolarismo che oggi prevale che può darsi che continui a prevalere possa forse laicalmente emergere una forza di centro diversamente stabilizzatrice del nostro quadro socio-politico bisogna quindi comunque interrogarsi a quale nuove modalità di testimonianza possa essere chiamato oggi l'impegno dei cattolici nelle mutate condizioni storiche di vita onde possa essere avere rilevanza efficace l'espressione del loro essere nella società tutto ciò ritrovandoci in un processo di crescente globalizzazione qual è in atto con le interrelazioni divenute così ad un tempo interpersonale ed altresì collettive a livello universale nonché con l'insorgenza del multiculturalismo e la compresenza di componenti sociali dalle più diverse origini etniche dandosi luogo a quello che è stato chiamato meticciato sociale sicché la vita nel mondo appare veramente sempre più tendente a quella di un crescente di un crescente grande villaggio globale la formazione oggi esigita ad intendersi pertanto anche come ricerca di una nuova mediazione culturale che di fatto di ciò tenga conto comunque non pare che fra i cattolici sia richiesta convergenza in un solo partito piuttosto parrebbe opinione personalissima che i cattolici in questa fase di evoluzione socioculturale debbano cercare di identificare nuovi modi per praticare e per seguire la loro presenza la loro testimonianza nelle strutture civili e sociali che la comunità contemporanea esprime e avverte come a sé consentane e debbano cercarne anche di propri e cioè quindi interrogarsi anche su quali comuni intelligenze di convergenti impegni per la tutela e l'affermazione in coerenza con la fede dei valori non transigibili o negoziabili che dirci voglia che sono nella vita contemporanea i tempi esigono l'elaborazione di un progetto sociale di ampia prospettiva da parte dei cattolici che tenga conto anche delle evoluzioni e mutazioni internazionali per superare la difficile transizione in atto quindi mi parrebbe che per i cattolici senza demotivare specifiche particolari assai apprezzabili partecipazioni non solo a livello locale anche alla politica attiva gioverebbe porre speciale attenzione più che una convergenza partitica ad una compresenza in istituzioni e strutture prepartitiche così da operare nel tessuto sociale per innervarlo di ispirazioni di azioni primariamente rispettose delle verità naturali di quelle rivelate onde da tali partecipazioni riemergano anche nel plurimo contesto politico presenze partecipative e incitamenti oggettivamente ordinati al bene quindi mentre allora si parlò di partecipazione nell'astensione oggi direi partecipazione e preparazione una partecipazione consapevole in quanto possibile vorrei non essere malinteso cioè anche nelle responsabilità politiche ma il problema è di chiedersi dove possa esservi una comunitarietà di azione dei cattolici come tali oggi ecco dove pongo l'attenzione sul prepartitico una partecipazione consapevole in quanto possibile nel contesto che ci circonda ma altresì preparazione per un domani che consenta maggior crescita della comunità secondo animazione cristiana ispirata comunitariamente quindi dalla comunitarietà alla comunità e in questo ravviserei una qualche analogabilità alla fase storica che fu di Tovini a quella che ci può attendere in questo tempo tutto ciò presuppone una reimmersione nello spirituale del nostro vivere il cattolicesimo attivo di fine ottocento fu proceduto da un intenso impegno religioso le vocazioni e l'azione si fondarono sulla fede vissuta ecco ancora perché Giova è anzi opportuno può essere di fatto necessario recuperare memoria nel nostro passato e di chi ci insegnano ancora oggi quanti si sono ispirati alla via maestra del Vangelo giustamente il meeting percorre l'itinerario di tante possibilità concrete aperte alla disponibilità alla generosità la doverosità caritativa nostra l'assistenza agli ammalati con particolare attenzione diversamente abili l'assistenza ai carcerati il coordinamento di chi è attivo sul piano produttivo la possente compagnia delle opere nonché proposte già concrete come il banco alimentare il banco farmaceutico il banco informatico e così pure invita ad allargare lo sguardo verso i più vari e vasti orizzonti degli interessi della ricerca scientifica nonché di quelli letterari artistici sportivi di ogni possibile attenzione e ricerca umana ma giustamente si pone cogliendola nel vivo del suo crescere nel contesto anche della vita familiare come primaria l'attenzione al tema dell'educazione il problema dei problemi per l'affermazione di questo valore Tovini come già accennato si trovò costretto ad affrontare una battaglia perché fosse riconosciuta e cattolici una piena cittadinanza e specificatamente la loro libertà di educare non che quella di liberamente costituire istituzioni educative quale condizione essenziale di cristiana promozione autentica ed effettiva della persona umana della famiglia e della società stessa come si è detto nella successione dei secoli i scenari storici mutano e quindi alle esigenze vanno adeguati i mezzi ma finché lo spirito umano possa manifestarsi nella sua autenticità quale espressione della sua originarietà divina permane necessaria alla condizione già richiamata che sia rispettata la libertà essa è per lo spirito come l'aria per il corpo la difesa della libertà di educazione e di associazione nella libertà concreta non astratta è infatti fondamentale difesa dell'uomo della sua dignità non si pensi che quelle nobili battaglie avessero una significazione minore delle stesse drammatiche situazioni che l'umanità ha vissuto in vari tempi in diversi luoghi e che le attuali difficoltà implichino minore intensità di impegno tenace e comunitario quanto all'esperienza di quell'epoca fra 800 e 900 leggiamo infatti nella prefazione che è già stata citata alla vita di Tovini scritta nel 1953 da Giovanni Battista Montini allora sostituto al segretario di Stato poi a Civesco in Milano quindi Paolo VI disse scrisse bisogna che i cattolici italiani non trascurino il culto dei loro predecessori nella lotta per conservare la nostra trasformata società i tesori della tradizione cristiana e che abbiano essi stessi coscienza di essere di tale tradizione redi e custodi e promotori quasi anelli dell'aurea catena che da Cristo arriva ai tempi nostri e ai venturi si tende il che Giovanni Battista ha scritto riferendosi a Tovini forse di ciò si dimenticano quanti leggono e vi sono fra loro anche degli storici quelle pagine di storia contrapponendo infondatamente alle posizioni di Tovini una linea montiniana quasi fossero alternative tra loro certo differenze ce n'erano di personalità e anche di momenti storici ma c'è una continuità di fondo ideale che va rilevata e riconosciuta spesso anche di poi è accaduto che si sia alterato l'autentico pensiero di Montini piegando la interpretazione di comodo non veritiere si è detto della battaglia di Tovini per la libertà dell'educazione una battaglia fisicamente incruenta ma di vitale tensione di totale dedizione oggi i problemi paiono spesso stemperarsi in una mediocrità d'atmosfere a cui dà impronte spesso deformanti un sistema masmediale in prevalenza condizionato da interessi o ideologici o economici che nel presunto affermato diritto del lettore veicolano e spesso accreditano messaggi tutt'altro che rispettosi della verità la verità è il valore assoluto cui la libertà dovrebbe servire come ancella il che è deco ben consapevole del positivo ruolo della stampa in generale dei mass media la cui essenziale funzione per lo svolgimento e la crescita della vita sociale è da difendersi e promuoversi così come l'alta missione del giornalista che si ponga onestamente alla sequela della conoscenza della verità ciò non toglie che sia necessario avere coscienza critica anche in questo ambito della vita contemporanea di ciò che di fatto ci circonda gli è infatti che l'uso distorto della libertà o addirittura la violenza ad essa impedisce che oggettivamente si conosca si giudichi quindi positivamente validamente si possa agire ricordiamo la mater magistra di Papa Giovanni non a caso guardando al di là dei tempi e dei confini vediamo che ove si voglia imporsi ove al potere si voglia comunque affermarsi si attenta alla libertà ma tornando a noi è la spiritualità nostra di cattolici che deve saper ritrovare intensità di vissuto sentire e pensare con un costante ritorno alle fonti che stanno proprio nel Vangelo e nella testimonianza destessa dei Santi che ci hanno preceduto nel segno della fete questo è il salto di qualità che può ancora oggi rigenerare la perenne modernità della Chiesa come auspica anche l'ultimo o penultimo perché ho letto un'intervista su Repubblica Giuseppe De Rita quando parla di più complesso contemperamento delle polarità di sacralità e santità impostazione che forse può difficilmente essere riconosciuta da chi come Emanuele Severino ritiene che nei territori del mondo e nei sensi e nella coscienza dei giovani sta crescendo l'eco della morte di Dio se non si conosce la realtà non si può certo ben valutarla né vi sarà il rischio di omologazioni quelle temute da Alberto Melloni scusatemi qualche passaggio un pochino dialettico vado verso la fine della conclusione si è detto che in Tovini l'azione sgorga dalla fede come opera di carità e che le istituzioni sono frutto opere dell'amicizia anch'essa fondata sulla comune fede e sulla coerenza morale vissuta in leale solidarietà è proprio vero che dall'amicizia scaturisce l'azione e che dall'azione comune si accresce l'amicizia si potrà dire infatti che la fede genera amicizie che a loro volta motivano relazioni da cui scaturiscono le istituzioni quali strumenti per un'efficace azione finalizzata alla promozione del bene comune dell'intera società gioverà a ripetere che le istituzioni sono di per sé meri strumenti non sono il fine ma di fatto le istituzioni consentono di far sì che l'azione frutto di una collegiale valutazione e determinazione abbia una duratura efficace e possa meritare un oggettivo riconoscimento ottenga una maggiore tutela della generosità e delle dedizioni soggettive spersonalizzandole e così facendo una loro maggior caratterizzazione favorendo una loro maggior caratterizzazione anche in fine di caritatevoli scopi secondo appropriati metodi l'amicizia è seppura disinteressata è tesa e praticata per un condiviso costante impegno di comunitarietà essa stessa una manifestazione dell'amore e se fecondata dalla grazia e alimentata dalla preghiera può divenire manifestazione dello stesso amore divino l'amicizia allora diventa il cemento delle buone intenzioni la forza propulsiva all'azione in amicizia autentica non si avverte la solitudine altro è l'interiorità soggettiva che costituisce l'intimo e doveroso baluardo della nostra coscienza e del nostro essere spirituale né la comunitarietà dell'azione amichevole sopprime la necessaria caratteristica propria dell'azione che ha da essere e non solo individualmente appropriata nei metodi all'ordine dei valori in cui si colloca il che non sopprime altresì lo spazio dell'agire soggettivo che se svolto solo al singolare si priva di una valenza peculiare dell'agire del cattolico evidentemente proprio per la loro relatività le istituzioni possono logorarsi nel tempo non corrispondendo più a mutate esigenze sopravvenute ed in tal senso in tal caso possono essere giustamente talora anche doverosamente modificate sostituite o soppresse a nuove esigenze corrispondano rinnovate istituzioni senza dimenticare che crearle può essere faticoso non si improvvisano ed è più facile costituirle solo nominalmente o distruggerle che di fatto costruire una duratura operatività coerente e qui salto il riferimento a una serie di istituzioni che già sono state menzionate anche quella del riferimento e dell'impegno di Tovini per la creazione dell'Università Cattolica che fu testimoniato questo interessamento da Ezio Franceschini Rettore della Cattolica quando venne a Brescia l'inaugurazione nel 1965-66 della sezione Bresciana dell'Ateneo Cattolico e fu menzionata anche da Gemelli in un numero di scuola italiana moderna dove commemorò Monsignor Zammarchi e citò l'impegno personale di Tovini per la creazione dell'Università Cattolica Allora concludendo la gratuità è la caratteristica dell'azione generosa la gratuità per essere autenticamente tale ad essere pura anch'essa disinteressata e potenzialmente piena cioè non condizionata da ottica immanentistica così sarà tendenzialmente perenne forse non sempre in talune forme di volontarismo contemporaneo c'è vocazionalità autentica per avere la prova di quella autentica basta vedere qui e respirare l'area che si coglie in questi grandi padiglioni infatti l'autentico volontariato genera dedizioni totali ma la fonte di ogni azione veramente caritativa è la fede l'educazione primaria che oggi come sempre in vero i cattolici debbano coltivare in se stessi e verso il prossimo all'educazione nella fede alla fede in Cristo Gesù figlio del Dio vivente nostro Redentore la fede che nella ragione ha motivi di credibilità e che la ragione stessa illumina e chiudo solo in tale ottica si è consentito anche a me di rivolgere direttamente di modo speciale ai giovani che sono qui presenti o che qui idealmente sono rappresentati un sincero apprezzamento ed un affettuoso ringraziamento per il grande contributo che recano e potranno recare alla presenza cristiana nella società contemporanea motivo di fiducia concreta e di speranza nel tempo presente nonostante le difficoltà che sussistono non lasciate che le insinuanti tentazioni che ci circondano condizionino la generosità della vostra dedizione aprite lo sguardo alla ricerca della luce tra le tenebre la luce che la fede genera componendo il vostro fattivo impegno con quant'altri condividono nella comune fede e nella chiesa l'autentica passione per il bene volgete con determinazione ed intenzione unitiva le vostre energie per la costruzione di una convivenza umana che sia ispirata alla civiltà dell'amore così la testimonianza di Tovini non potrà che dirsi ancora oggi viva tra noi grazie scusate grazie grazie gustav maler diceva che la tradizione non è adorare le ceneri ma trasmettere il fuoco è una delle più belle definizioni di tradizione che abbia mai conosciuto e credo che sia il commento migliore all'intervento così ampio approfondito e anche provocatorio che ha fatto adesso il dottor Camadini assieme ad un'altra parafrasi se mi permettete che sta un po' anche nello scopo di questa mostra come dicevo all'inizio che era destinata io allora quando l'ho pensato ero presidente della compagnia delle opere per me stesso e i miei amici impegnati nelle opere ma appunto come abbiamo sentito vale anche per chi fa politica per chi lavora nei giornali vale per tutti ed è una parafrasi una frase di San Giacomo che dice il quale dice che la fede senza le opere è morta ed è vero che la fede senza le opere è morta però le opere senza la fede possono essere anche peggio questo è la chiusura di questo incontro invito chi non l'avesse fatto a vedere la mostra ringrazio ancora i nostri due relatori il professor Bressan e il dottor Camadini sinceramente di cuore e un ringraziamento a coloro che hanno lavorato alla mostra ce ne sono diversi in sala e anche a tutti voi che avete seguito questo incontro e vi auguro buona serata grazie